buongiorno e benvenuti al mio podcast io sono leonardo durante globa di surprise 20 21 top 50 andiamo alla curiosità di oggi salvo a tutti io sono oggi felicissimo e soprattutto molto onorato di avere con noi il professore Federico Capasso per quei pochi che non conoscono il professore il professore è italiano nato a Roma naturalizzato statunitense già dal 1992 dopo il dottorato all'università dopo il dottorato in fisica all'università di Roma è entrato nel 1976 ai Bell Laboratories in New Jersey USA e dopo una brillante carriera di scienziato vincendo i nuoverevoli premi dal 2003 è ordine di fisica applicata alla Harvard University e dal 2012 è tra i soci stranieri dell'Accademia Nazionale dei Vincei io intanto ringrazio tantissimo Federico grazie per la tua disponibilità io sono felicissimo oggi di averti qui e spero che i miei ragazzi potranno fare tesoro delle tue parole grazie mille io sono veramente felicissimo oggi di incontrarti Federico perché come dicevo prima tu insegni fisica applicata all'università di Harvard e da pochissimo sei stato incluso anche nella lista dei Clara White Citation Laureus 2023 che spero di non sbagliarmi è un possibile indicatore per i futuri candidati al premio Nobel vero Federico sì sì ma io lo vedo questo come una lotteria preferisco non avere questi sogni perché raramente i sogni si avverano giusto quindi non voglio farmi assolutamente influenzare da questi sogni allora partiamo dall'inizio puoi raccontarci i momenti chiave che ti hanno portato alla tua carriera in fisica applicata e alle tue ricerche sulla fotonica sì sì beh in realtà molto tempo io ho cominciato io non credo e credo che è una cosa veramente corretta nonostante che quando parlo alle persone non ci credono non ha avuto mai un talento spiccato per la fisica per la matematica cioè questo talento spiccato intendo dire questo molte volte tra grossi scienziati l'ultimo è Giorgio Parisi che mi viene in mente è chiarissimo dalla sua biografia che lui fino da 16 17 anni aveva un talento molto forte per la matematica e poi a decidere dedicarsi alla fisica io non avevo questo talento non l'ho mai avuto anzi ho faticato moltissimo a ero lento nel capire la matematica anche poi quando ho cominciato a studiare fisica ho avuto grosse difficoltà all'università di Roma e Pimiani a un certo punto ho deciso di quasi di lasciare e per fortuna che mia madre più testona di me ha insistito quello che ho avuto e che ha compensato questa di ci chiamava di intelligenza media è il fatto che ho avuto sempre un'enorme passione per la fisica per la scienza la passione radicale direi e è una grande curiosità proprio di imparare e questo ha avuto un effetto compensatorio per cui io dico sempre l'intelligenza conta fino a un certo punto e non solo la creatività si può imparare stiamo attenti su questo se si parla di creatività a livelli di Enrico Fermi, Dirac, Einstein eccetera è chiaro che lì ci vuole il genio però c'è la creatività a un livello più diciamo basso può fare molto, può spingere a realizzare anche delle cose grosse scientificamente senza avere il genio questo fa fatto capire perché molte volte nei ragazzi giovani si sente dire ah io non sono portato per la fisica, non sono portato per la matematica, ci vuole un'intelligenza particolare non è vero, ci vuole un certo un'intelligenza media ma non credo maggiore di quella che ci vuole per fare legge, scienze politiche eccetera, quello che ci vuole è la passione e la curiosità e a me questo me l'ha instillato ed è un fatto di pura serendipity, non so in italiano dicesse serendipità, mi ricordo è una cosa, serendipity, una volta mio padre quando avevo sette anni mi regalò un libro che era intitolato Il nostro amico atomo, allora era di un grosso divulgatore scientifico tradotto dall'inglese, io mi sono appassionato e da quel momento ho deciso di fare fisica e non ho mai abbandonato questo, nonostante ripeto non ho mai avuto un talento particolare eccetera avevo sì una grande voglia di impariare, di curiosità e anche a un certo punto ho capito che bisognava lavorare sodo in maniera sistematica, direi che uno dei miei vantaggi è solo molto sistematico negli studi ho sempre sistematico, un'enorme volontà di riuscire e questo ha compensato un'intelligenza tutto sommato media diciamo e quindi questo è un po', quindi un messaggio un po' agli studenti è questo, sono scuse se dite non sono portato per questo eccetera in realtà bisogna alimentare la passione e la curiosità e io lo dico in inglese uno deve innamorarsi di un problema, innamorarsi di un problema, è un innamoramento, nel senso che non c'è molte volte un'altra fila logica, perché mi piace e voglio occuparmi di questo non lo so, non mi interessa neanche qual è il motivo, ma se ciò mi avviene la passione l'innamoramento del problema allora, perché si sa siamo sistemi complessi, troviamo poi le risorse entro noi stessi, al di fuori per risolverlo, in questo io credo molto e lo vedo ancora adesso in questa fase della mia carriera diciamo. Federico tu hai parlato di passione, io ogni giorno parlo appunto ai miei studenti di passione, di forza di volontà e appunto di innamorarsi di quello che si sta facendo. In questo modo faremo sicuramente molto meglio il nostro lavoro e saremo anche dei lavoratori felici, perché l'azione alimenta la felicità, purtroppo tantissime persone fanno un lavoro capitato un po' così, quasi per caso e non sono felici e di conseguenza non possono proprio innamorarsi dei propri problemi, del proprio lavoro. Federico io quanto ho visto che ti sei occupato per tanto tempo e ti occupi ancora di fotonica, in particolare leggevo sui laser a cascata quantica, che hanno diverse ripercussioni anche sul monitoraggio dell'inquinamento, sulla chimica atmosfera, la diagnostica medica. Puoi spiegarci in modo accessibile che cosa sono questi laser a cascata quantica e quali sono appunto le principali applicazioni pratiche? Ma i laser a cascata quantica sostanzialmente è un laser particolare. Prima di tutto devo fare un preambolo, questo è stato reso possibile dai progressi che sono stati fortissimi, soprattutto negli anni di 80, della crescita di materiali artificiali. Artificiali si fiamma man-made, cioè che in natura non si trovano, vanno realizzati attraverso tecniche, in questo caso del laser a cascata di crescita di cristalli particolari. E la tecnica in particolare che si sviluppò negli anni 70-80 ai laboratori Bell si chiama Molecular Beam Epitassi, epitassia fasci molecolari. L'epitassia viene dal greco, vuol dire depositare praticamente in maniera planare e si possono in questa maniera depositare con la Molecular Beam Epitassi strati alternati nell'accezione più semplice di materiali diversi. Per esempio è importante che questi materiali possono essere fino allo spessore di un singolo atomo, cioè si possono alternare strati ultrasottili, nanometrici. Quando si alternano due materiali che sono differenti, uno può essere esempio l'arsenuro di gallio che è un semiconduttore, l'altro può essere per esempio l'arsenuro di alluminio e di gallio che è una lega teraternaria. Alternando questi praticamente uno riesce a controllare le proprietà elettroniche e ottiche del materiale, cioè le proprietà che inizia solo a vedere individualmente questi materiali come separati, hanno certe proprietà elettroniche ottiche. Mettendoli insieme e facendo questi sandwich molto sottili si riescono a creare proprietà elettroniche nuove. Quella più semplice da spiegare è la creazione di livelli di energia che non esistono nei materiali presi separatamente. Uno, come sa, negli atomi, la maniera semplice di spiegare è il modello famoso di Bohr, che ci sono orbite. Gli elettroni occupano varie orbite da diametro sempre più grande. Ogni orbita corrisponde un'energia ben precisa. E quando si salta da un'orbita all'altra si emette un fotone, cioè un quanto di luce, se si va da un'orbita a energia più alta, una più bassa, si assorbe un fotone se si fa il processo che è opposto. E questo è ben noto. Quello che si fa nei materiali artificiali, alternando due materiali diversi, si possono creare i cosiddetti pozzi quantici. Cos'è un pozzo quantico? Praticamente è una buca di energia. È una buca, letteralmente, in cui all'interno della buca si ha un'energia che è minore che l'esterno, per cui ha una buca e a sinistra a destra ci sono due barriere di energia. All'interno uno della buca, essendo la buca di spessori nanometrici, che è proprio lo spessore di questi strafi sottili, si crea una quantizzazione della energia, che concettualmente è molto semplice, ha la quantizzazione dell'energia negli atomi. D'accordo? Quindi questa è la cosa di fase. Quindi il laser a cascata quantica è una maniera, diciamo pure creativa, di creare un'alternanza di stati in maniera tale che l'idea centrale uno crea applicando un voltaggio ai capi di questo materiale, questo si fa applicando dei contatti metallici, si applica una tensione tipicamente, si usano tensioni variabili dai 5 ai 10, 12 volt, uno crea in questa maniera una cascata di energia, una scalinata, cioè uno se disegna questo, vede veramente che si fuori la scalinata di energia. Tra gli scalini ci sono queste buche, questi pozzi quantici che ho cercato di descrivere prima. E li ha descritti perfettamente, professore, io li ho studiati perché, come le dicevo, sono ingegnere elettronico, proprio ho lavorato in fotonica, quindi mi si è riaperto un mondo che non vedevo, non sentivo da anni. Quindi nell'altro caso, questo è questo, uno applicando una tensione, un voltaggio può iniettare degli elettroni. Gli elettroni cominciano a cadere lungo la scalinata. Quando, proprio prima di cadere, se vuole, la caduta, il passaggio da uno scalino a quello successivo, si fa attraversando un pozzo quantico. Quindi cosa succede? Che l'elettrone viene iniettato in un livello di energia superiore, casca giù e li emette un fotone e poi viene, questa è la cosa, questo cascatica ti viene rieniettato nello stadio successivo e quindi da un elettrone inizialmente uno può ottenere n fotoni dove n è il numero degli stadi, tipicamente da 10 a 20-30 stadi. E questo è un fatto nuovo, un laser a semiconduttore che funziona con questa cascata, già si vede che a parità di corrente uno può ottenere una potenza maggiore di uno convenzionale, eccetera, perché può creare n fotoni laser per ogni elettrone che è iniettato, diciamo. Quindi questa è una delle cose. E l'altra cosa è che uno artificialmente, cambiando la separazione di questi livelli di energia, può creare laser con lunghezza d'onda differente e praticamente in quest'anieri laser a cascata quantica copre tutta la regione spettrale dall'incirca 3 micron a 20 micron che si chiama mid infrared, cioè mezzo infrarosso in inglese, mid infrared, chiamata anche molecular fingerprint region. Fingerprint vuol dire... Impronta digitale. Impronta digitale perché queste lunghezze d'onda corrispondono proprio alle lunghezze d'onda in cui la maggior parte delle molecole assorbono luce. E quindi questo ha portato al fatto di questo laser è utilizzato in molte applicazioni, la spettroscopia molecolare e quindi anche la rivelazione di composti chimici, la sensoristica chimica, applicazioni anche a rivelare che questo si può fare a rivelare concentrazioni. Io, dopo che il laser ha cominciato a funzionare, ho stabilito nel giro di pochi anni in collaborazione con i gruppi migliori del mondo in questo campo che hanno effettivamente aperto questo laser alle applicazioni in chimica, diciamo. La cosa importante, nessuno può chiedersi, ma prima non esistevano questi laser, è una cosa un po' complessa. C'era un laser molto noto, usato industrialmente, molto potente che si chiama laser ad anitrite carbonica che arriva fino a 10 kilowatt di potenza, però ha una copertura di lunghezza d'onda bassa. Se lo vuol cambiare la lunghezza d'onda, praticamente col metodo tradizionale dell'effetto laser, uno deve cambiare materiale. Cioè, deve cambiare materiale. Qui invece, con la stessa combinazione di materiali alternati, cambiando gli spessori, uno riesce a laserare su ghezze d'onda differenti. Quindi lo spessore, più che il materiale costituente in sé controlla la lunghezza d'onda. Questo è il fatto veramente innovativo di questo laser. In più ci sono maniere in cui a parità di scelta del materiale, quindi si sa qual è la lunghezza d'onda di uscita. Usando dei trucchi, alterando materiali si riesce anche a fare questi laser accordabili. Nel senso, per esempio, variando la corrente o altre maniere si riescono a accordare. Quindi sono laser in cui uno può disegnare la lunghezza d'onda di emissione in un spettro molto largo, tutto il mezzo inferosso, tra 3 a 20 micron, con la stessa scelta di materiali, variando di spessore, per una particolare scienza del materiale, scelta del materiale con una serie di trucchi, che abbiamo, che abbiamo la corrente, anche alcuni metodi ottici si riesce ad accordare la lunghezza d'onda. Qui questi sono i fatti, il fatto che questo laser sia affermato, direi, il giro della scelta di armi come il laser più usato in questa regione dello spettro, diciamo. Federico, sicuramente dovrò fare una lezione approfondita sulle metodologie di costruzioni, perché è tutto estremamente interessante e i miei ragazzi saranno sicuramente... Io, tra l'altro, ho pubblicato un libretto con la Di Renzo, Di Rienzo, che si chiama Avventure di un designer quantico, che è una cosa che costava allora 10 euro, fatto proprio per ad uso delle scuole. Infatti, io sono andato a fare dei seminari, un libro uscito con Di Rienzo, proprio in base a questo libro che aveva scritto, tutto illustrato con delle figure, le cose che ho detto sono illustrate con delle figure, in cui c'è anche un racconto della mia carriera, diciamo. Allora, sicuramente sarà uno dei prossimi libri che prenderemo con i miei... Penso che ce n'è ancora qualche copia, ma ancora... Sicuramente sì, ma Federico, ascoltami, ti volevo chiedere, ci dici qual è una delle applicazioni appunto dei laser a cascata quanti, quantistica o quantica che ho guardato? Ripeto, sono stati commercializzati da molte compagnie, una delle applicazioni principali è la sensoristica chimica, diciamo, e per esempio i settori sono vari. Uno, per esempio, è quello... per esempio, un mio collega di Harvard, su un aereo che va d'alta quota fino alla stratosfera, dalla troposfera e dalla stratosfera, è una missione che è durata 4 anni, si chiama HIPPO, HIPPO Mission, in cui sono andati dal sud, dalle latitudini, diciamo, non proprio vicino al polo sud, ma abbastanza in basso, fino a lungitudini, diciamo, a livello quasi di arrivare lì al polo e non sono variando la latitudine, scusa, la longitudine, ma anche... cioè scusa, cosa stai dicendo? La latitudine, la latitudine, cioè l'angolo che stanno qui, ma anche a varie altezze, dalla troposfera alla stratosfera, hanno mappato i gas importanti per il climate change, cioè non solo il vapore d'acqua, la nitrite carbonica, ma il metano e l'ossido di azoto, di azoto 2O. E quindi questa è un'applicazione molto importante alla chimica dell'atmosfera e so che la gente che l'ha utilizzata, il professore Jim Anderson di Harvard e un altro professore che si chiama Steve Wolf, si era detto e questo ha avuto un impatto molto importante, avranno un impatto sempre maggiore perché dalla distribuzione dei gas a serra si riesce a fare poi, si mettono i risultati nei modelli climatici e delle conclusioni importanti o interessanti. Questa è una. L'altra è un'applicazione che è industriale, cioè in ogni processo industriale si creano dei gas di cosi che vanno tenuti sotto controllo, per esempio nei processi di combustione si produce non è solo ossido di carbonio, ma NO, che è l'ossido, è molto attivo, l'NO, NO, non l'N2O, l'NO. Sì, sì, sì. E il rapporto di questi gas è importante nei processi di produzione, quindi laser a cascata quanti avevano usati per esempio in questi processi industriali per monitorare questi gas. Si possono anche utilizzare, sono utilizzati per andare a vedere l'emissione dagli smoke stacks, chiamiamoli dai camini dell'industria, lì si manda esplicemente un laser attraverso i laser, con un riflettore, eccetera. Quindi ci sono un sacco di queste applicazioni, diciamo. Le altre applicazioni sono, e queste sono più a livello di, anche ad esempio le emissioni nell'agricoltura. È importante monitorare certi, però c'è un'applicazione di monitorare le etilene, non mi ricordo il motivo, a bassissime concentrazioni. Quando si parla di basse concentrazioni, queste tecniche, guarda, cascata, guarda, ha permesso di rivelare concentrazioni fino a una parte per trillion. Meraviglioso, sì. Quindi la concentrazione è veramente bassissima. Bassissima, eccetera. E questo si fa con tutta una serie di tecniche spettroscopiche che esistevano già. E quindi il vantaggio è arrivato in laser cascana quantica, è stato immesso in queste tecniche che esistevano dando risultati che prima non erano possibili, sia per la lunghezza d'onda da ricoprire, sia anche come sensibilità. L'altra applicazione è militare per difesa, cioè si chiamano contromisure ottiche, cioè le contromisure sono queste. Tipicamente un missile che deve colpire lì un aereo si usa un sensore che praticamente permette di zero in, di mirare alla parte dell'aereo che è molto calda, che è il motore, che essendo molto calda si comporta come un corpo nero e ha emissione, ovviamente lunghezza d'onda, sono tra 5 e 10 micron, diciamo. Quindi le contromisure con un laser a cascata quantica uno può accecare il sensore del missile, diciamo, e quindi cercare di deviarlo. Le contromisure sono ormai, è un'applicazione commerciale, non so a che punto sono come uso perché il settore è classificato, cioè informazioni segrete a cui non ho accesso, ma so che ci sono industrie che producono i laser a cascata e questa è un'applicazione di potenza, cioè l'applicazione di prima, la sensoristica, uno non ha bisogno di potenze molto elevate, anzi molte volte deve stare attento all'usare alla potenza massima, ma uno può fare dei laser a cascata quanti che vanno in continua con potenze di decine di Watt, che è una potenza significativa per applicazioni di tipo militare, per esempio, diciamo. Federico, le applicazioni sono innumerevoli, di conseguenza quello che abbiamo detto all'inizio, essere inserito anche in questa prestigiosa lista e in questo caso facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili per il tuo futuro. Io spero tanto di avere nella nostra lista Diana un altro premio Nobel. Devo dire però che le cose più importanti come impatto a grosso volume non sono i laser a cascata quantica, per quanti interessanti, eccetera. È l'ottica piana che abbiamo sviluppato, le metalenti negli ultimi anni, diciamo, e questo adesso, c'è stato un annuncio, la compagnia ha cominciato, Metalens, e ha fatto un accordo con la UMC, che è una found, delle grosse found, che fanno i chip, e siccome questo è l'aspetto innovativo, queste lenti si possono fare con la stessa tecnologia dei chip a semiconduttori, queste lenti stanno entrando, adesso, entreranno nei telefonini cellulari in un tempo relativamente breve, si parla di pochi anni nei laptop, eccetera. E questa è una cosa che neanche nelle mie aspettative più rosee non avevo neanche sospettato. Quando abbiamo cominciato a lavorare, capito, che queste lenti ultrasottili potevano essere fatti con questa tecnologia, controllare le distorsioni, eccetera, ho capito che l'impatto poteva essere grosso, allora non ho esitato, con il mio studente, a fare di una compagnia, questa a me è Talens, diciamo. Allora, Federico, ci dobbiamo riaggiornare al prossimo argomento, perché il nostro tempo ha a disposizione... Sì, lo so, infatti, sì. Se un'altra volta, con piacere, vedi tu, insomma, ormai so come fare il mio setting qui con lo schicchiere e qualcosa. Allora, sicuramente ci riaggiorneremo, perché vedo che abbiamo tantissimi argomenti su quali dibattere e con molto mio piacere si parla appunto di fotonica, un argomento che non toccavo da tutto sempre. Io ovviamente ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio in bocca al lupo per la tua carriera, per il tuo futuro e rimaniamo in contatto per tutte le innovazioni che stai appunto in campo. Ha fatto molto piacere, grazie a te. Grazie a te, Federico. Ti auguro... Salutami i tuoi studenti, salutami i tuoi studenti. Ti stanno ascoltando proprio con questo podcast e magari poi ti vedranno anche. Allora, sempre bene, Federico. Ok, ciao, ciao. Ciao.